Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui nella cripta per un video un po' diverso dal solito e con questo video inauguriamo tanto per cambiare, siccome ce ne sono poche all'interno del canale, una nuova rubrica di Records from the Crypt. Come sempre nuove impostazioni video con la telecamera o telecamera, la webcam con l'autofocus che quindi dietro vedete sfarfalla in continuazione e nuova bellissima illuminazione, una bellissima illuminazione. E indosso a tal proposito questa bellissima t-shirt di Creepshow perché appunto con questa nuova serie vi voglio far vedere un'altra delle mie grandi passioni musicali in vinile, non sto lì a farvi vedere quello che possiedo per quanto riguarda le colonne sonore in cd perché non mi interessa, appunto le soundtrack, le colonne sonore dei film. Ovviamente saranno colonne sonore di film che a me piacciono tantissimo, ok? Non necessariamente tutti i film che a me piacciono tantissimo hanno anche una colonna sonora che mi piace tantissimo, quindi possiedo chiaramente i vinili di quei film che oltre ad essere di film bellissimi hanno anche una colonna sonora che almeno per quanto mi riguarda, scusate mi è uscito un avviso di il tuo ordine, ricevuto un nuovo aggiornamento, sarà un disco sicuramente. Comunque, dicevo che perlomeno a me piacciono tantissimo. Oggi vi farò vedere 5 vinili, mi sono fatto qualche appuntino ma non è che starò lì più di tanto a raccontarvi la rava e la fava, soprattutto in questa rubrica, sotto rubrica, vabbè quello che è, non starò troppo a parlare del film, non vi racconterò ovviamente la trama del film, sennò questi video durerebbero veramente un'eternità, ok? Allora, incominciamo con la colonna sonora di un film molto particolare, vi stupirò forse con questa cosa perché forse non vi immaginereste che a uno come me possa piacere un film del genere, invece questo è sicuramente uno dei miei film preferiti, con una colonna sonora che mi piace molto, nonostante non sia assolutamente né metal, né rock, né nient'altro. Un film del, boh, 1900? Beh, vedo che la colonna sonora è del 1988, quindi suppongo, mi sono preso di appunti su questo disco, è pochissima roba. Cosa stavo dicendo? Ah sì, quindi anche il film è del 1988. Parliamo di un film, del 1988, la cui colonna sonora è pubblicata dall'americana Atlantic, famosissima, ovvero colonna sonora del film Stealing Home, original motion picture soundtrack, Stealing Home. Che film è questo? Beh, qui due parole magari le spendiamo. Allora, io guardai questo film all'epoca perché io sono un fan, sono sempre stato un fan sfegatato di Jodie Foster. Io ho sempre adorato Jodie Foster, secondo me la più grande attrice del mondo, mi è sempre anche piaciuta parecchio, se vedevo dire la verità. E un bel po' di anni fa vi di questo film, che è uno dei suoi film sinceramente più sconosciuti, che in italiano era tradotto con Il Sentiero dei Ricordi, mentre il titolo originale è Stealing Home, che è una frase che riguarda il gergo del baseball, perché questo film parla molto di baseball, tra le altre cose. Chissà perché a me piacciono tantissimo alcuni film abbastanza strappalacrimi americani quando si parla di baseball, come ad esempio L'Uomo dei Sogni, ok, con Kevin Costner. Parleremo anche di quello magari un giorno. Comunque ragazzi, questa è la colonna sonora, come vedete vi faccio vedere il retro del vinile, alcune scene del film. Qui l'etichetta dell'Atlantic, Atlantic Recording Corporation, come vedete, o quasi, 1988, ancora nella bustina trasparente, l'ho tenuto così perché c'era questo adesivo promozionale, includes, and when she danced, love them from Stealing Home. Qui vedete, scusatemi, vabbè, nell'immagine i due attori principali, ovvero la nostra Jodie, e non so se mi ricordo assolutamente il nome di quest'uomo, e qui alcuni degli autori dei pezzi, ovvero David Foster, Bo Diddley, di Everly Brothers, The Four Seasons, il famosissimo Jerry Lee Lewis, Marilyn Martin, The Nylons, The Shirelys, non so neanche come si pronunci. E qui dietro i titoli delle varie canzoni. Adesso non sto neanche lì. Allora, la cosa che io adoro di più di questa colonna sonora è il Dem. Dem, suppongo che voi sappiate che cos'è il Dem di una colonna sonora, quando c'è, non so, il nome del film, Dem, è la, diciamo, la musica di sottofondo, comunque il tema principale scritto appositamente per il film. E Stealing Home, performed by David Foster, è veramente, ragazzi, un qualcosa di, un pezzo stupendo, secondo me. Mi ha sempre fatto venire, forse i brividi, ma forse perché è, si ascolta soprattutto in una delle scene finali del film, che è quella più bella in assoluto. Che vabbè, non vi dico, magari un giorno guarderete il film, una canzone che mi ha sempre emozionato, insomma. Poi cosa abbiamo? And When She Dance, comunque, è veramente una bella canzone. E All I Have to Do Is Dream, carina. E poi, vabbè, Jerry Lewis è presente con un pezzo famosissimo, ovvero, ragazzi, Grand Balls of Fire, che credo conosciate tutti. Stealing Home Reprised, sempre performed by David Foster. Cathy Sdem, Cathy, Jody Foster in persona, appunto, una babysitter che si chiama Cathy. Personaggio molto, molto particolare. Va bene, stiamo già parlando troppo di questa colonna sonora, ragazzi. Vi faccio vedere il vinile che, come potrete intuire, non ha niente di particolare. È un semplice vinile nero con le label della Atlantic Records. Il lato A. E il lato B. Sono riuscito a recuperarlo in, direi, ottime condizioni, ad un prezzo. È veramente irrisorio, credo di averlo pagato. Questo è un altro caso in cui mi sono costate più le spese di spedizione del disco, perché credo di averlo pagato 5-6 euro, questo vinile. Anche perché è un film che non se l'è filato praticamente nessuno e quindi tantomeno la bellissima, per quanto mi riguarda, perlomeno, colonna sonora, ragazzi. Stealing Home, tradotto in italiano. Se cercate il film con il titolo italiano è Il Sentiero dei Ricordi, con Jody Foster e quest'uomo che continua per me a essere un perfetto sconosciuto. Va bene, ho fatto un'introduzione con un disco particolarmente strano. Devo tenere d'occhio il minutaggio, perché siamo già a più di 7 minuti. Non so se riuscirò a farveli vedere tutti e 5, perché non volevo fare un video da 40 minuti, comunque. O magari sì, vediamo. Allora, continuiamo. Che cosa abbiamo messo qui? Abbiamo due dischi. Ho fatto cadere l'impossibile. Ci pensiamo dopo. Abbiamo due vinili, ovvero la colonna sonora di un film e la colonna sonora del seguito del film. Altri due film che io adoro tantissimo e di cui, secondo me, la colonna sonora di entrambi è assolutamente un capolavoro fottuto. Parliamo, vediamo se mi sono segnato qualcosa. Sì, vabbè, qualcosina. Allora, ragazzi, bando alle ciance. Colonna sonora composta. Music composed and conducted by Basil Poliduris, ovvero la colonna sonora del film di, come vedete in alto, John Milius, Conan the Barbarian. Conan il Barbaro. Vediamo di non fare troppi riflessi, magari. In questa bellissima ristampa, molto particolare. Non riesco a farvi vedere bene i colori, però è più scuro di quello che vedete. Non so perché, forse questa illuminazione. Comunque, questa è l'edizione, è una delle ristampe in vinile che sono state fatte. Questa è il retro. Bellissima, secondo me. Come vedete qui, vinile 180 grammi. Black vinyl. Gatefold. Ce la facciamo? Gatefold edition. Made in France. E, chiaramente, i titoli dei vari pezzi. Con, beh, chi non conosce, ragazzi, l'inizio, prologue, Anvil of Chrome, l'incudine di Chrome. Riddle of Steel, Riders of Doom, altro capolavoro. Ma non c'è un solo pezzo di tutta questa colonna sonora che non valga la pena di essere ascoltato, ragazzi. Ho detto edizione Gatefold. Ecco qui. Pubblicato dall'etichetta, questa edizione, questa ristampa, dall'etichetta americana, è una ristampa del 2018, sull'etichetta americana Milan, che non riuscirò assolutamente mai. Allora, dov'è che è qui? Ah, sì, si riesce a vedere. Grazie al nuovo autofocus, Milan. No, un'etichetta francese. Perché mi sono scritto americano? www.milanmusic.fr, poi Made in France. Scusate, suppongo un'etichetta francese, quindi ho sbagliato. Gatefold, vi ho detto, non spendo parole sul film, ovviamente, che è uno dei miei film preferiti in assoluto. Addirittura con i Crimson Dawn, sul nostro terzo album inverno, abbiamo dedicato un pezzo a questo film, ovvero Tulsa Doom and The Cult of the Snake. Qui abbiamo il lato A, con i due serpenti che chi ama il film conosce molto bene, i due serpenti che si fronteggiano, ma sono uno solo. E il lato B, vinile nero, semplice. Prima vi ho detto che il vinile della colonna sonora di Stealing Home lo trovate a prezzi veramente ridicoli. Qui già entriamo nel meraviglioso mondo del porca vacca quanto cazzo costano le ristampe delle colonne sonore recenti in vinile. Allora, quando io ho comprato questa edizione del 2018 di Conan the Barbarian, in realtà l'ho pagata non pochissimo, assolutamente, ma non cifre. Credo di averla pagata 35 euro, 30-35 euro, che per carità, vinile singolo, nonostante sia Gatefold, quindi non è che sia proprio poco. Sono andato a vedere, prima di fare questo video su Discogs, e ragazzi, questa stampa del 2018 adesso va via su Discogs a circa 100 euro. 100 fottute euro. Benvenuti, ripeto, nel mondo delle ristampe su vinile, delle colonne sonore e dei grandi film. Dopo capirete perché vi dico questa cosa. Comunque, vabbè, è un'edizione bellissima. Ovviamente, ragazzi, quando vi faccio vedere vinile di colonne sonore, soprattutto di film molto famosi, sappiate che di edizioni ne sono state fatte un milione in vinile, in cassette, in CD, in quello che voglio. Io vi parlo, come sempre, dell'edizione che possego io. Comunque, ragazzi, Conan the Barbarian, edizione Gatefold del 2018 su Milan, record bellissima. E proseguiamo con il seguito, ovviamente, di questo film, se riesco a rimettere nella sleeve il vinile, scusatemi, sto perdendo un po' di tempo, con il seguito. Questa volta non ho trovato edizioni, ristampe particolari, e quindi, se non sbaglio, ragazzi, ho comprato l'edizione su MCA Records del 1984 di Conan il Distruttore, Conan the Destroyer. Copertina, come vedete, molto più classica di quegli anni, con il nostro Arnold Schwarzenegger e i suoi muscolacci. Non capisco cos'è questo spettacolo, adesso vado a vedere. Maschio. Che è? Maschio. Torino, Piazza Castello 31. Ah, credo che fosse un negozio. Vabbè, comunque, anche qui, come vedete, sotto a The Destroyer, anche in questo, Destroyer, scusatemi, anche in questo caso, anche la musica di Conan il Distruttore è composta dal grande Basil Poleduris. Music from the original motion picture soundtrack. Questo è il retro, con, come sempre, i titoli dei pezzi. Anche questa, ragazzi, main title, Riders of Taramis. Vabbè, è un capolavoro assoluto, questa soundtrack, veramente, veramente bellissima. Qui, come vi ho detto, scusatemi, da questa parte, vedete, MCA Records, che mi pare sia, in questo caso, sia un'etichetta americana. e alcune immagini del film, come vedete, tra l'altro, qui, vedete, famosa Grace Jones, vinile nero. Ah, vi faccio vedere anche la slip protettiva dopo. Su MCA Records, lato A e lato B. Quindi, niente di che, anche questo, direi, in condizioni davvero buone per essere un vinile, appunto, del 1984. E anche questo, ecco, questo, quando l'ho comprato, l'ho pagato veramente pochissimo. Adesso, ragazzi, se volete, questa edizione, la trovate in buone condizioni, ovviamente, a circa 35 euro. Mi sa che negli ultimi anni il mercato delle colonne sonore in vinile si è avuto un'impennata pazzesca, perché sono veramente richiestissimi e stanno, ogni anno fanno ristampe di qualunque cosa. Cosa di cui sono contento, il problema è che costano un patrimonio, vabbè. Vi volevo far vedere la slip protettiva, è retro, più che altro. Fa molto vecchi anni, adesso vedete, qui c'è il logo del negozio di dischi, The Sound of Vintage, Via Pragelato 19, Torino, quindi non so cosa c'entri, Piazza Castello, comunque va bene. Non so se dovevo nascondere il numero di telefono di cellulare, ma comunque se volete chiamarli vendono vinili a Torino. Conan the Destroyer. Va bene, proseguiamo, da quanto stiamo parlando? 15 minuti, certo che ve li faccio vedere tutti e due questi. Ecco, qui entriamo in un altro, in un altro, porca vacca quanto costano le ristampe su vinili, vabbè, avete capito, e passiamo ai film horror, la mia grande passione, come sapete, e passiamo a uno dei film horror che io preferisco in assoluto nella storia di tutti i film horror. lo conoscerete tutti anche voi, è stato fatto un seguito, cioè un 2, ed è stato fatto anche un orribile 3, di cui non voglio neanche parlare. Questo vinile che vi faccio vedere ora mi permette di parlare di un'etichetta discografica che si occupa esclusivamente di ristampe su vinile di colonne sonore di film famosi, un'etichetta americana, che fa queste ristampe che non si sa perché, oramai addirittura non si riescono neanche più a preordinare, e se non riuscite a preordinarle poi raggiungono delle quotazioni davvero spaventose, cosa che mi fa molto incazzare perché la Waxwork Records, ragazzi, ed andatevelo a vedere su Discogs che cosa fa, fa delle edizioni di soundtrack spettacolari, questa che sono fortunatamente riuscito ad aggiudicarmi, comprata Factory Sealed, nuova, in celofanata, è la colonna sonora, ristampa della Waxwork Records del 2017, del bellissimo Creepshow, non sto neanche lì a parlare più di tanto di che cos'è Creepshow, qui vedete, scusatemi perché i vinili sono semplicemente infilati dentro, From Masters of the Macabre, George A. Romero and Stephen King, e tra l'altro qui, se vi ricordate, nel secondo episodio, che mi pare non fosse originariamente presente nella versione italiana del film, l'interprete nel secondo episodio è proprio Stephen King stesso, che interpreta un bifolco che risponde al nome di Jordi Verril, che scopre questo meteorite, e vabbè, vi ho detto che non volevo parlare del film, e quindi mi fermo qui. Qui il retro, bellissima, bellissima questa edizione, side A e side B, music composed and performed by John Harrison, e non so se si riesce a vedere qui, ragazzi, il logo della Waxwork, vediamo se riesco a metterlo a fuoco bene, Waxwork Records. È un gatefold, togliamo il vinile, vi faccio vedere prima quella che era l'etichetta promozionale sulla sleeve di plastica, eccolo qui. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è scritto, faccio più in fretta a leggerlo piuttosto che metterlo a fuoco. Remastered from the Lost 1982 Master Tapes, Director Liner Notes by George A. Romero, Composer Liner Notes by John Harrison, includes built-in booklet, art by Ghoulish Gary Pulling, 180 grammi, colored vinyl, tra l'altro un colore bellissimo, adesso vi faccio vedere. Comunque prima abbiamo il gatefold, e la cosa bella del gatefold è che, scusatemi, le edizioni veramente della Waxwork Records sono spettacolari, spettacolari. Abbiamo innanzitutto questo, non lo chiamerei un poster, chiamiamolo uno sheet con il nostro zio Creepy. e se, vabbè, intanto vi faccio vedere. Allora, si apre così, da questa parte scene del film, questa è una scena del film, questo credo che sia Romero che parla con non mi ricordo chi, vabbè, qui c'è un po' da leggere per quanto riguarda la storia del film della colonna sonora, e si apre tipo libro in questo modo, continuo qui la storia di colonna sonora, e ragazzi è difficilissimo farvi vedere questa cosa, e finisce così. Sì, sono solo due fogli in realtà, sono solo due fogli attaccato alla copertina di cartone, e veramente, veramente bella, soprattutto mi piace tantissimo la copertina. Tra l'altro la Waxwork, quando fa queste ristampe di film, non mette mai la locandina originale come copertina. In alcuni casi, ma nella maggior parte dei casi, le rivisita abbastanza bene, a suo modo, come ad esempio, come vedete in questo caso. Vi faccio vedere il vinile, prima fatemi mettere via lo zio Creepy, che sennò potrebbe infastidirsi. Tra l'altro, ah, non ce n'è anche pensato, vi sto facendo vedere la colonna sonora del film, il cui narratore, ovvero lo zio Creepy, è anche il simbolo, come vedete dall'immaginetta, quando andate sul canale Records from the Crypt, appunto, del canale Dischi dalla Crypt, ok? Scusate la cosa che continua a sfarfallare. Non parlare del film, non devo parlare del film. Fatemi mettere via anche... No, questo mettiamo via dopo. Il vinile è bellissimo, vinile singolo, size A e size B, è di questo colore, che non mi ricordo come si chiamasse, ma ragazzi, è bellissimo, davvero. Non riesco a farvelo percepire quanto è bello, è questo nero smoked black, scusatemi, verde, smoked black, trasparente, ma di un verde che dal vivo è molto più bello di quello che vedete in questa immagine, con il lato A e l'episodio di scarafaggi, il lato B. È davvero, ragazzi, bellissimo, purtroppo non riesco a farvi... è molto trasparente, ma di un colore veramente verde-smeraldo con questo fumo nero, fantastico, bellissimo. Allora, in realtà, vi ho detto che questi vinili della Waxwork costano tantissimo, è difficile per ordinarli, ve ne farò vedere in particolare uno che comprai praticamente all'uscita e mi costa comunque un patrimonio. Questo, in realtà, è uno di quelli che costano meno e che quindi sono riuscito a comprare. Costa meno, cosa vuol dire? Quanto? Vuol dire che meno, attenzione, attualmente su Discogs viene venduto a circa 60 euro. E se vi dico che questo è uno dei più economici realizzati, che potete trovare adesso comunque su Discogs della Waxwork Records, vi lascio immaginare quanto possono costare gli altri che vi farò vedere in futuro o che vi dirò o che vorrei comprare sulla mia wishlist di Discogs. Comunque, ragazzi, Creepshow e, ripeto, andatevi a vedere se siete interessati a queste cose, ovviamente, alle colonne sonore in vinile, la Waxwork Records. Ottima, ottima etichetta. Geniale, poi, comunque, fare delle edizioni lussuose, diciamo, Deluxe, delle colonne sonore di questi film. Va bene, il tempo per l'ultimo vinile direi che c'è, 21 minuti, faremo una mezz'oretta, quindi, potevo portare di qualche un altro, effettivamente, però, vabbè, bene, 5 vanno bene, faremo di 5 in 5, proseguiremo questa rubrica, per non annoiarvi troppo. Creepshow. Attualmente, presente nella mia wishlist, non l'ho ancora comprato, la stessa cosa, sempre Waxwork Records, ma di Creepshow 2. Anche quello non è costosissimo, quindi, magari, un giorno, a breve, spero, lo recupero. Ultima colonna sonora che vi faccio vedere, che potrebbe sembrare, perché anche questa è una bellissima edizione, un'altra edizione della Waxwork Records, ma, in realtà, fatemi vedere, è stata pubblicata dall'etichetta americana che si chiama Real Gun, Real Gun Music, e quindi, non dalla Waxwork Records. Ed è la colonna sonora di un altro film che io adoro, ma veramente, tanto, uno dei, secondo me, dei, io sono un grande appassionato dei film horror sui zombie, come forse avrete già intuito, e questo è uno dei film horror sui zombie, che io preferisco, ragazzi, The Return of the Living Dead. Original soundtrack, il film è del 1985, riedizione, questa ristampa, del, su Real Gun Music del 2015, qui vedete, molto piccolo, purtroppo, il logo della Real, Real Gun Music, scene del film, titoli dei pezzi, qui parliamo di una colonna sonora, mentre la colonna sonora, non ve l'ho detto, vabbè, quella di Creepshow, è una colonna sonora molto d'ambiente, ok? Non ci sono canzoni, mi avete capito? Cioè, non ci sono proprio dei pezzi, ma è tutto molto d'ambiente, bellissima, bellissima. Qui invece, ci sono molte canzoni, ragazzi, è proprio un, è un film sui zombie, ma con una colonna sonora, che mi ricorda, i vari, teen slasher movie, sempre degli anni 80, più che un film sui zombie. Abbiamo i The Cramps, con Surfing Dead, Fortified Grave, Party Time, Zombie Version, tra l'altro c'è, credo proprio Party Time, sia stata coverizzata, per chi ha visto, la mia speciale Halloween, qui facevo vedere, tutta la mia discografia, degli Essie Witch, c'era quella, EP, in cui gli Essie Witch, hanno, hanno fatto quattro cover, di pezzi, di film horror, vabbè, ve lo ricordate, di film horror famosi, e uno era, credo proprio Party Time, preso dalla, The Return of the Living Dead, Il Ritorno dei Morti Viventi, e abbiamo poi, Zoll, con Nothing For You, The Flesh Eaters, vabbè ragazzi, tanto, che possiate conoscere, credo che non ci sia, proprio nessuno, né come band, né come canzone, per cui, The Return of the Living Dead, film bellissimo, con l'anno sonora, che non è male, molto da, Metal Party, direi, Locandina, bellissima, e, dentro abbiamo, abbiamo qualche inserto, no, c'è un'etichetta, promozionale, eccola qui, The Punk Rock, allora, Green and Red Blood, ma porca vacca, Vinyl Edition, come vedete, nonostante, io non riesco a mettere a fuoco, neanche con l'autofocus, limitatura, tiratura limitata, di 300 coppie, The Punk Rock soundtrack, to the brain eating, zombie freak, featuring the crimes, the damned, the flesh eaters, and more, sì, effettivamente, Punk Rock, Punk Rock, sì, potrebbe anche, essere azzeccato, come genere, diciamo, principale, della, della colonna sonora, e il vinile, anche in questo caso ragazzi, è veramente bello, questo lo trovate, allora, il prezzo, quando lo si trova, non è altissimo, perché si parla di 30-35 euro, però, ultimamente, ho guardato su Discord, non si trova da nessuna parte, ed è veramente bello, questo vinile, ma bello, 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 beh, lo vedete da voi, lato A, e, lato B, The Return of the Living Dead, tra l'altro, è, è uno dei film, ve l'ho detto, è forse, forse il mio film preferito, sulli zombie, ricordo ancora, un'estate, negli anni 80, in cui, di notte, io e mio cugino, siamo rimasti svegli, a guardarlo, e, veramente, tra l'altro, è, ovviamente, un film horror, anche abbastanza splatter, direi, ma molto, 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 come peraltro, vabbè, non parliamo di tre film, molto ironico, ok, ci sono dei pezzi, che fanno proprio ridere, però, penso di zombie, e tutti i film sui zombie, vanno assolutamente guardati, e quando hanno una, bella colonna sonora, come questo, bisogna comprarne, la colonna sonora, l'ultimo vinile, che vi faccio vedere oggi, ragazzi, per questa nuova rubrica, effettivamente, sto parlando da 26 minuti, mi viene quasi voglia, di andare a prenderne un altro, ma sì, aspettatemi qui, l'ultimo vi faccio vedere, direi ragazzi, che era da un po', che non facevo questa cosa, di andarmene, andare a prendere qualcosa, da un'altra parte della cripta, però, almeno, facciamo durare il video, mezz'ora, un pochino più di mezz'ora, e vi faccio vedere, un pochino più di cose, cioè, è un disco in più, attenzione, ragazzi, parliamo del grande Dario Argento, in questo caso vinile, che ragazzi, mi è arrivato ieri, non l'ho ancora ascoltato, una delle colonne, più belle, sonore, più belle, nonché uno dei film più belli, di Dario Argento, e una delle colonne sonore, fatte per Dario Argento, dai Goblin, secondo me, più belle in assoluto, ovvero la colonna sonora, ragazzi, dell'immortale capolavoro, di Dario Argento, non è il mio film, di Dario Argento preferito, è il mio secondo film, di Dario Argento preferito, nel prossimo episodio, di questa rubrica, sulle soundtrack, vi farò vedere, la colonna sonora, del mio film preferito, ma intanto, al secondo posto, c'è sicuramente, Sospiri, ragazzi, musica, della colonna sonora, originale del film, questa è una ristampa, ovviamente, abbastanza deluxe, pubblicata dalla, qui c'è scritto, su licenza, della Cinevox Records, SRL, qui dietro, con, in questo caso, è proprio la, l'ocandina originale del film, con la ballerina, con, che balla con i, le gambe, i piedi insanguinati, e la gola tagliata, molto classica, come immagine, per chi è appassionato di horror, come me, ovviamente, Sì, qui vedete, scusatemi, etichetta, logo dell'etichetta, una volta tanto, davanti, sulla copertina, Cinevox, stereo, qui il retro, musiche composte ed eseguite, dai Goblin, Sospiri, a Witch, Opening to the Scyx, Scyx, Marcos, Elena Marcos, Black Forest, Blind Concert, Death Balzer, bellissima, questa è un'edizione, Gatefold, che ho pagato, Factory Sealed, quindi sigillata, nuova, non tanto ragazzi, 25 euro, mi pare che l'ho, mi è arrivato ieri, già non mi ricordo più, quanto mi è costato, vabbè, qui abbiamo ovviamente, vedete, Dario Argento, vabbè, insomma, scene del film, solite cose, Quoddam Ubiquet, Quoddam Semper, Quoddam Ad Omnibus, Creditum Est, e qui sopra dovrebbe esserci scritto, scusatemi, la magia è, se vi ricordate la frase del film, bellissimo, non l'ho ancora messo sul piatto del giradischi, perché, ieri me ne sono arrivate due, di nuove colonne sonore, questa, e quella di un altro film di Dario Argento, che non è il mio preferito, però, vi farò vedere nel prossimo video, ah sì, scusatemi, vi stavo facendo vedere il vinile, il vinile è un'edizione particolare, molto bella, e 180 grammi, bella pesante, sembra cose più di 180 grammi, questa è la sleeve, i Goblin, che parlano con Dario Argento, altra scena del film, con la nostra Jessica Harper, ed è in vinile, clear, ovvero ragazzi, lato A, completamente trasparente, ma di un trasparente direi, veramente trasparentissimo, veramente bello, e tra l'altro credo che appena avrò finito questo video, andrò a metterlo sul piatto del giradischi, per ascoltarmelo, lato A, sembra fatto di vetro davvero, e lato B, colonna sonora ragazzi di Suspiria, è un assoluto capolavoro, come ho già detto, è una delle colonne sonore più famose, dei Goblin, tra l'altro, possiedo le edizioni in DVD di Suspiria, con un'edizione speciale, in cui c'è anche un'intervista a Dario Argento, in cui parla anche della colonna sonora del film, e una cosa carina, è che lo strumento che si sente, nel tema principale di Suspiria, che entra a un certo punto, adesso non so se avete presente, com'è il tema principale di Suspiria, quello, vediamo se riesco a cantarvelo, senza stonare troppo, la 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 la, no come faceva, la la, no, na 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 na, na 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 na, una roba così, io di solito non sono stonato, non so perché, quando tento di fare queste cose alla webcam, c'ho feche, vabbè chi se ne fotte, è carino che perché, dice Dario Argento, di avere, in quel periodo, mentre i Goblin stavano scrivendo la colonna sonora di Suspiria, dopo un viaggio in Grecia, lui era in Grecia, e vide un suonatore di questo strumento, che è il Buzuki, gli piacque moltissimo il suono di questo strumento, e secondo lui, poteva usato in un certo modo, in un certo modo, avere anche un suono inquietante e oscuro, quindi lo comprò, lo portò a Roma, e lo diede ai Goblin, che stavano appunto elaborandolo con la colonna sonora di Suspiria, e loro i Goblin lo usarono proprio nel tema principale, se ascoltate il tema principale, a un certo punto sentite questo strumento, questa nota strana, che entra, e adesso non riesco a riprodurla, ed è proprio il Buzuki, quindi anche una cosa strana all'interno, comunque bellissima ragazzi, questa edizione della Cinevox, e vi ripeto, questa in realtà con 25 euro, ve la procurate sigillata, 25 al massimo 30 euro sigillata, tra l'altro ragazzi, questi sono tutti i remaster, e quindi si sentono tutti benissimo, perlomeno le ristampe, quando vi faccio vedere invece un disco originale, magari degli anni 80, o che ne sono magari in futuro addirittura degli anni 70, è un altro discorso, va bene, ho parlato per 33 minuti, direi che è il caso adesso sei di finirla qui, la prossima volta vi garantisco che ho tanti altri bei, bei, bei dischi di colonne sonore da farvi vedere, e di film di tutti i generi come vedete, non solo horror, quindi ragazzi ci vediamo la prossima volta, e anche se non abbiamo parlato di metal, comunque sia, stay metal.